Spettacoli teatrali, cineconcerti, passaggi nella storia e viaggi nello spazio. Weekend all'insegna dei grandi appuntamenti al Festival Internazionale Castel dei Mondi. La ventottesima edizione della Kermesse, in programma ad Andria fino al prossimo 12 settembre, si avvia verso la sua conclusione, ma con un calendario di eventi che accompagneranno il pubblico anche nel fine settimana. Si comincia oggi, sabato 7 settembre, dall'auditorium della Chiesa di Sant'Anna, dove a partire dalle 20 il maestro Riccardo Lorusso racconterà in musica la storia di un tesoro nascosto della città federiciana. Vari a dire Giovanni Antonio Cirullo, illustre musicista andriese e compositore di Madrigali, vissuto nel XVI secolo, un evento organizzato dalla sezione locale di Italia Nostra. In serata, le 21.30, sarà la volta di Napoleon di Abel Gans in scena all'Officina San Domenico, per la serie Super Shock Cineconcerto, con replica anche domani. Un lavoro incentrato sulla leggendaria figura di Napoleone Bonaparte e sulle sue innate doti di stratega, esaltate nella campagna d'Italia del 1796. Doppio appuntamento anche nella serata di domenica 8 settembre. Alla biblioteca comunale Giuseppe Ceci, alle 18.30 e poi ancora alle 19.45, la performance di Animus Anima del collettivo Crass. L'esito finale di un laboratorio svoltosi nei giorni scorsi, incentrato sul tema di genere maschile e femminile. In serata, andrà in scena lo spettacolo dal titolo Interstellar, l'incredibile viaggio delle Voyager di Matteo Miluzio. Un viaggio epico ed appassionante tra immagine, musiche e suoni attraverso 50 anni di storia dell'esplorazione spaziale. Appuntamento alle 21.30, presso l'Anfiteatro della Villa Comunale.